È stata una settima edizione da record per il premio Pirazzini, il concorso dedicato alla memoria del famoso giornalista sportivo Ezio Pirazzini e rivolto alle scuole superiori del circondario imolese. Oltre 300 gli elaborati pervenuti alla giuria da parte di 5 istituti con gli studenti che quest'anno sono stati chiamati a riflettere sul tema gioventù e felicità, quanto conta lo sport, e hanno potuto scegliere tra la forma scritta dell'articolo, del saggio o del racconto e quella del prodotto multimediale. Il premio è stato organizzato come sempre dall'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, sezione di Imola, insieme alla figlia Gabriella Pirazzini ed amici e colleghi del giornalista, e ha vissuto il suo momento più emozionante nel corso della cerimonia che si è svolta all'autodromo di Imola e che si è conclusa con la consegna di un premio speciale al dottor Claudio Costa. Veramente ragazzi, insegnanti, sponsor, organizzatori, tutti hanno riempito di complimenti una bellissima giornata. I complimenti vorrei che andassero però direttamente ai ragazzi, sono stati tanti bravi e hanno messo nero su bianco le loro emozioni più vere e più sincere. Felicità e gioventù è il tema, abbiamo accettato anche infelicità ed età difficile, però diciamo la migliore approssimazione alla felicità può essere lo sport. È una frase tratta da uno dei lavori non finalisti, ma insomma perché non citarlo quando dice delle cose giuste. Molto profondi perché probabilmente hanno toccato le corde più dirette di quell'età difficile che era l'adolescenza. Parlare di felicità e di sport, che sono due elementi importanti anche di quella stagione della vita, li ha toccati da vicino e quindi credo che abbiano risposto al meglio.